Ha speso ben 1000 euro di taxi per farsi portare avanti e indietro da Rubio per scaricare illecitamente quintali di rifiuti. È finito nei guai l'ecovandalo bassanese che ha abbandonato quintali di immondizia in questa malga. È stato il proprietario dello stabile a sporgere denunce alla polizia locale e da qui sono partite le indagini, ma nessuno si sarebbe mai immaginato quello che poi è stato scoperto. È una cosa che ha dell'incredibile usare i taxi per andare a spargere i rifiuti. Abbiamo rovistato e alla fine abbiamo trovato degli elementi che ci hanno portato prima a chi ha spargere i rifiuti e successivamente lo stesso ha ammesso su come erano venuti i fatti per cui usavo i taxi. Sacchi e sacchi di pattume all'interno un po' di tutto, abbigliamento, pezzi d'auto, ma anche astucci di colori, biancheria per la casa, scarpe, mobili, maschere di carnevale. Quintali di rifiuti di tutti i tipi, qualsiasi tipo, pensate a qualcosa, lì c'era. E nei guai, sempre per abbandono di rifiuti, è finita anche un'azienda bassanese di termoidraulica che ha scaricato materiale da cantiere in via Cristoforo Colombo. Lo stesso luogo scelto anche da un'impresa di pulizie che ha approfittato di un'isola ecologica privata per smaltire immondizia in modo irregolare. Gli ecovandali sono stati tutti sanzionati e dovranno dimostrare agli agenti della polizia locale di aver sgomberato e smaltito regolarmente il pattume. 600 euro di multa anche per il tassista che ha portato l'ecovandalo bassanese con il suo bagaglio di sacchi neri su e giù per le montagne. Grazie.